Il pubblico ha deciso che a dovere abbandonare la casa del grande fratello per sempre, questa sera sarà... Carlotta! Mi spiace, Carlotta! Voglio un mondo di bene, sappi che adesso stai uscendo, c'è Nello fuori, c'è l'Anello, tornata a casa insieme. No, ma poi c'è Nello qua fuori, ragazzi. Appunto, amore. No, ma poi c'è Nello fuori, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.